Vediamo insieme i risultati della decima giornata di andata dell'eccellenza Sicilia Girone A. L'anticipo tenutosi il 12 novembre ha visto Parmonval contro Dattilo Noir per il risultato di 3-0. Domenica 13 novembre abbiamo visto il Profavara scontrasti contro il Troina per il risultato di 1-4. Marsala-Riveramarmi 0-2, Folgore-Selinunte-Licata-Calcio 1-1, Mussomeli-Castelbuono 4-0, Paceco-Campofranco 2-0, Nissa-Alcamo 1-2 e per finire Gela contro Mazzara 0-2. Vediamo ora la classifica dell'eccellenza Sicilia Girone A dopo la decima giornata di andata. Al primo posto troviamo sempre Paceco con 22 punti, seguito da Troina e Alba Alcamo con 19 punti. Abbiamo poi Riviera Marmi con 18 punti e Selinunte con 17 punti. Verso metaclassifica troviamo Parmonval e Dattilo Noir con 16 punti, Mussomeli e Nissa con 15 punti e Licata con 14 punti. Abbiamo poi Campofranco con 11 punti, Marsala, Mazzara e Polisportiva-Castelbuono con 8 punti. Troviamo infine in coda il Profavara con 6 punti e Gela con 4 punti. Diamo uno sguardo dunque alle partite che si terranno domenica 20 novembre per il prossimo turno di eccellenza Sicilia a Girone A. Alba Alcamo contro Folgore Selinunte, Campofranco contro Gela, Profavara contro Marsala, Troina contro Paceco, Dattilo Noir poi contro Riviera Marmi, Licata contro Mussomeli, Mazzara contro Nissa e infine Polisportiva-Castelbuono contro Parmonval.